Il prosciutto di Parma per diventare tale deve rispettare un disciplinare. La materia prima principale che è la carne suina, cioè la coscia di suino, deve derivare da maiali nati ed allevati in Italia e macellati in Italia. Il maiale deve avere almeno 9 mesi di vita alla data della macellazione e deve essere almeno 10 kg di peso al lato della salatura. È un prodotto assolutamente tutto italiano, la cui unica ingredientistica, oltre alla ovvia carne suina, è il sale marino. Arrivare a 20-24 mesi di stagionatura con un prosciutto vuol dire partire da materie prime assolutamente selezionate e ottenere un prodotto di grandissimo livello qualitativo. Le nostre aziende, nel rispetto della più antica tradizione, hanno cercato di interpretare le più moderne tecniche di lavorazione abbinandole alle migliori tecnologie disponibili sul mercato e che di fatto rendono anche possibile dei notevoli risparmi energetici, utilizzando le unità di trattamento d'aria e il cosiddetto sistema entalpico, cioè che è quel sistema che mi permette con delle stazioni meteo al di fuori dello stabilimento di non utilizzare energia ma di utilizzare semplicemente le condizioni esterne di aria.